Ci siamo, siamo arrivati alla fine di questo capitolo 5 di Fortnite E come ogni capitolo, siamo qui con il video di fine capitolo Dove tiriamo le conclusioni su tutto quanto il capitolo che è appena finito Prima di iniziare iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al campanile, se tu volete mi piace, coniudete il video, mettetevi comodi perché oggi parleremo veramente tanto Ma innanzitutto ricordiamoci come siamo arrivati in questo capitolo 5 Perché vi ricordo che dopo un anno dove Fortnite non aveva nei piani quel capitolo, ovvero il capitolo 4, lasciato proprio a vuoto Ci hanno lasciato lì abbandonati da noi stessi Abbiamo avuto un mese di una season oggi del capitolo 1, un mese fantastico Trovate anche il video di fine season su tutte le stagioni, su tutti i capitoli sul canale C'è una playlist fatta apposta, quindi andate a recuperare se vi interessano E dopo un mese così, dove Fortnite ha proprio fatto il record di giocatori, superando anche il capitolo 1, vero e proprio Arriviamo nel capitolo 5 con le aspettative, regà, sparate al cielo Perché dopo un anno dove non ci sono stati praticamente aggiornamenti, tutto morto Arriva il capitolo 5 e regà, ci aspettavamo tutti, ma tutti quanti il capitolo, non dico perfetto, ma un grandissimo capitolo Ma è stato così? Ora ne parliamo Parto col dirvi che ovviamente non mi soffermerò su tutte le singole stagioni Perché ovviamente ho già fatto i video ogni fine season, facevo già il video Quindi se volete sapere proprio la mia su tutte le stagioni, trovate tutti i video a riguardo Oggi parliamo a grandi linee di tutte le stagioni, per poi arrivare alle conclusioni finali Perché arriviamo, come vi ho detto, da una stagione OG E la stagione 1, ragazzi, sembra veramente figa Season Underground, la mappa sembra bella, con questo realismo sempre Che sinceramente spero che nel capitolo 6 non ci sia così tanto realismo Con un bel po' di novità Innanzitutto, tutte le grafiche anche delle armi sono tutte nuove, sono tutte armi nuove C'è questa nuova meccanica di poter modificare le armi Finalmente si può adesso aggrapparsi anche sui muri Perché è una meccanica molto interessante E poi ci sono tante altre cose interessanti Per esempio, una cosa che magari non vi salta all'occhio adesso Ma è stata fondamentale in questo capitolo 5 Sono i medaglioni, ragazzi Perché in questo capitolo i boss non sono più come una volta che tu lo killavi Ti dava l'arma mitica e la card del cavo Andavi la card del cavo dentro c'erano delle chest No, ci sono stati i cavo Perché se vi ricordate, nella prima stagione c'erano i cavo Prendevi il medaglione Che in Season 1 ve li ricordate i medaglioni Quanti video abbiamo parlato sui medaglioni Di quanto erano rotti e poi all'inizio Di quanto poi li hanno depotenziati un po' troppo All'inizio, nella Season 1 Prendevi il medaglione Intanto avevi dei poteri che ti curavano la vita Roba assurde proprio E poi andavi nel cavo e c'avevi altro loot Dalla Season 2 invece hanno tolto i cavo Poi hanno fatto altre robe Ma i medaglioni sono stati molto belli In Season 3 invece I medaglioni servivano per aprire il cavo con le macchine Ve li ricordate I medaglioni sono stati una roba molto molto importante Ragazzi di questo capitolo E spero sinceramente che possa riproporlo forse in futuro O è meglio forse che puntino su altro Sinceramente io preferisco i medaglioni alle card dei cavo Sincero Perché i medaglioni non ti occupano intanto uno slot alimentario Puoi raccoglierli tutti Ed è più bello secondo me il medaglione rispetto alla card dei cavo Quindi questa cosa è veramente bella Ed è un pregio di questo capitolo Insieme anche ai boss e alle armi Che adesso ci colleghiamo subito a questo discorso Perché le armi di questo capitolo Il fatto che si possono modificare A me piace un sacco Ovvio Poi alla lunga Cioè una volta, due volte, tre volte Alla fine tu fai sempre quelle di modifiche Ok? Cioè io faccio le stesse modifiche Da... Da... Season 1 faccio le stesse modifiche Da inizio season fino alla fine Season 2 pure Season 3 pure Season 4 pure Cioè sempre quella alla fine Ok? Tra una season e l'altra cambiava qualcosa Ma sempre quella usavo alla fine poi Quindi Questa forse è la pecca di questa... Di questa... Aggiunta Però vabbè Diciamo che va bene Se tipo nel capitolo 4 hanno giunto i perks Gli ottimizzatori Che erano per me molto ma molto belli Spero in un loro ritorno In questa stagione ci sono state appunto le modifiche alle armi Che ti permettono di fare certe cose Perché raga Aiutano secondo me Cioè ci sono proprio armi che tu... Le armi di questo capitolo Sono fatte apposta per le modifiche alle armi Perché se tu prendi le armi Proprio dalla season 1 Singolarmente Senza nessuna modifica Non dico che fanno schifo Ma... Poco ci manca Ecco Cioè nel senso Ci sono state tante armi Che poi hanno rimosso Alcune che sono rimaste dalla season 1 fino alla fine Le armi tutto sommato Di tutte le stagioni Anche delle season successive Dalla season 1, 2, 3 e 4 A me sono piaciute Proprio a grandi linee Mi sono piaciute Quindi le armi non dico che sono un flop Però per dirvi Le armi del capitolo 4 Forse paragoniamoci al capitolo precedente Le ho preferite un po' di più Rispetto a queste Nonostante queste mi piacciono molto Tipo la mentalità a tre colpi Una mentalità veramente bellissima Ho anche il cecchino della season 1 Ragazzi Che arma era Quindi le armi in generale Anche la balessa della season 3 Ci sono state un bel po' di armi Ok? A me sono piaciute le armi Fare dei due eventi festivi Che ci sono stati in questo capitolo Ovvero il Winterfest Che è stato in season 1 E il Fortnite Che è stato in quest'ultima stagione Ovvero la stagione 4 Ora vi ricordo Non mi soffermo su tutto Perché ne avevamo già parlato Nei video appositi di ogni season Andatele a recuperare Il Winterfest Non è stato per niente bello ragazzi Io non so se ve lo ricordate bene Ho fatto più e più video Dove ne parlavo E' stato il Winterfest Peggiore Della storia di Fortnite In mappa In realtà c'erano anche Abbastanza Tra virgolette Decorazioni Neanche troppe La mappa era in nevata Perché era in nevata Perché era in inverno Quindi ci sta Già almeno quello Era bello Il fatto che era in nevata Però Sinceramente ragazzi Il fatto di togliere il capano Di mezzo in vero Che secondo me Quest'anno tornerà Sicuramente Non dico che sia una scelta A parte che Devono farlo Secondo me Perché crea hype Però Addirittura Mettere i regali Nella sfida Delle missioni Nel menu delle missioni Robo in fondo Roba che ragazzi La gente non sapeva Di regali E' stato secondo me Un flop totale Winterfest Mentre il Fortnite In versione Ne abbiamo parlato anche recentemente Anche nei video di fine Di questa stagione E' stato un gran Fortnite Merse Molto bello Per molti anche il migliore Si sente che Halloween La mappa è fatta Proprio A tema Halloween Ed è molto molto bella Questa cosa Spero che continuino così Anche con i prossimi eventi Di Halloween E spero che il prossimo evento Di Natale Sia tipo questo qua Di Halloween Perché è stato molto molto bello Quindi Aperte Chiusa parentesi Sugli eventi Festivi Di questo capitolo Allacciamoci al prossimo argomento Parliamo adesso Dei mini eventi Che sicuramente Hanno caratterizzato Questo capitolo 5 Considerando che Nel capitolo 1 E 2 Eravamo abituati Agli eventi finali Con il timer Con le esplosioni Eccetera eccetera Mentre nel capitolo 3 Già si era abbassata La quantità Nel capitolo 4 Ne abbiamo avuti 0 Sia di mini eventi Sia di trail Di filmati Sia di mini eventi Di eventi finali 0 0 Spaccati In questo capitolo 5 Avremo Alla fine Adesso Ovviamente Per via di 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 Pisti Che non posso parlare Dell'evento finale Di questo capitolo Ma Vi posso parlare Dei mini eventi Iniziati in stagione 1 Con la mano Ve la ricordate ragazzi La mano Che è uscita fuori dal terreno È stato molto bello Vederlo dal vivo Quello Perché l'ho visto dal vivo C'è anche la reaction Sul canale L'ho visto in live Insieme a voi È stato molto molto bello Per poi collegarci Alla season 2 Dove c'era l'evento Quello della spada Che quello non ho visto Idem Quello della season 3 Perché ero già partito Lo stesso giorno Sono partito Presto Prima dell'evento Sono partito Quindi non ho visto Anche quello della season 3 Ma Quello della season 4 L'ho visto invece Quello con doom Quindi 4 mini eventi Però ogni stagione Abbiamo avuto un mini evento Innanzitutto Vi dico che Il mio preferito È stato quello della mano Perché c'era un hype intorno Secondo me Quello era È stato il più Cioè il più bello È stato quello con più hype intorno Ecco Perché poi Per migliore Che cosa intendiamo Quello di doom E quello con doom Che dovevi spararli È quello che è durato di più Però C'era poco da fare Ok Nel senso Quello della mano C'era l'hype che esplosione È uscito la mano Ed è finito lì Quello della spada Idem La spada si è ammossa un attimo Ha sparato un fulmine Ed è finito lì Quello del season 3 Idem È esploso Per 10 secondi È esplosa la città Nel deserto Season 4 Anche in realtà Quindi Sono mini eventi Che però per me Sono importanti Se in ogni stagione Ci fosse un mini evento Fatto bene E a volte magari Anche con un evento finale Secondo me Aiuta la stagione Perché Con un timer magari Perché in season 1 Il timer non c'era Idem in season 2 Per esempio Io quello della season 2 Ragazzi Io ero a lavoro Quando l'hanno fatto Io non avevo idea Che ci sarebbe stato Quel mini evento E comunque Non come Passati anni Ma comunque Sono sempre informato Sulle news di Fornet E quello proprio Non avevo idea Che ci sarebbe stato Quindi Poi in tipo di season 3 Il timer l'hanno fatto Ecco Anche in season 4 Cioè La roba è Se Fornet Per fare questi mini eventi Di 20 secondi Spreca Tutti i soldi E le energie Per fare magari Degli eventi finali Allora ti dico di no Se invece Riescono a fare un compromesso Per me Sono ottimi Questi mini eventi Quindi Promossi E adesso Parliamo Della mappa Di questo capitolo 5 Dei cambiamenti Che ha subito Questa mappa Perché Arriviamo in una mappa Che tra l'altro Ricorda molto La mappa del capitolo 2 Per la forma Eccetera Che sembra Molto bella Sarà che Eravamo in hype Perché era premuto La season G Nuovo capitolo C'era la neve Natale Belle cose Poi però ragazzi Nel corso Delle altre stagioni Diciamo che È andata un po' Malino Per quanto mi riguarda Allora Dalla season 1 Alla season 2 Hanno fatto Due grandi cambiamenti Ovvero Hanno aggiunto Due nuovi Grandi biomi Che era nella neve Se tu guardi Grandi acciaio In season 1 E la guardi adesso Non adesso Che c'è Halloween Facciamo così Se tu guardi Grandi acciaio Adesso Ti guardi Di una clip Di Grandi acciaio In season 1 O della season 3 Ok Facciamo che L'estate Cioè tu proprio noti Che è più Spenta Ok Io Sta roba Magari è una roba mia Ma tra ogni season Che passa Ma in ogni capitolo Spengono sempre Di più i colori Non so perché Assurdo C'era anche Rotaglie rischiose Che città Che era Tarantella Ragazzi Che città Ci sono state città Molto belle Cioè A grandi linee Ci sono state tante città Molto belle Cioè per dirvi All'inizio del capitolo 5 A me sembrava Di essere stato Catapultato In una mappa Che boh Dicevo ma Ma che città ci sono Poi Ovviamente Esplorandole per bene Eccetera Ci sono state città belle Cioè che me le ricorderò Ok Però sta roba È un po' come Nel capitolo 4 Capitolo 4 Ragazzi Season 1 C'erano colori bellissimi Poi dal season 2 Le hanno spenti Io non capisco Sta roba che hanno Io spero che nel capitolo 6 Non lo facciano Assolutamente Però la mappa Allora C'è una parte Ci sono tante Delle città belle Come vi ho detto Però è Comunque secondo me Un po' Un lato negativo Perché Per molte stagioni Soprattutto La stagione 2 Dove io ragazzi Mi hanno già parlato Tante volte Dalle mie esperienze Season 2 Perché giocavo di meno Perché magari dove Avevo meno ore A disposizione Tante robe Però ragazzi Cioè proprio Non mi veniva voglia Non avevo la voglia Di giocare In quella mappa In quella stagione La stagione 2 Ha proprio Spezzato Tutto Colori Spenti Quindi la mappa Ragazzi Non posso Proprio per coerenza Anche Non posso Metterla Nei lati Positivi Per me È un lato negativo Nonostante ci sono state Cose belle Cose belle Come anche Dei piccoli luoghi Dei piccoli Delle piccole casette Di piccoli Diffici in giro Per la mappa Anche di Benzinai Delle robe così Che rispetto A magari altre mappe Di altri capitoli Ci sono state Dei piccoli luoghi Del genere Dove mi sono affezionato Per esempio Anche le gallerie Del treno Che sicuramente È una roba positiva E Spero che nel capitolo 6 Ci siano molti Come nel capitolo 1 Che nel capitolo 1 Anche gli alberi Erano iconici Spero che nel capitolo 6 Si torni un po' Su quella roba lì Lo spero Mi devo soffermare Su due cose Ovviamente Perché hanno fatto parte Di questo capitolo 5 Uno è multiverso Mutaverso Metaverso Quella roba là Di Lego Festival Dove ne abbiamo parlato Troppe volte E sapete che c'è Non ne voglio neanche più parlare Perché per racchiudere Quelle cose Se puoi Una parola puoi dire Flop Morte Disastro Catastrofi Queste sono le parole Che si avvicinano Che si avvicinano di più A quella roba là Quindi è meglio che non parliamo Di quelle robe Ma una cosa di cui dobbiamo parlare Per forza È la modalità rientro La modalità reload Che per molti ha cariato Il capitolo 5 Soprattutto l'ultima parte Ovvero dalla season 3 In poi Ragazzi Per me è stata una modalità Molto bella Positiva Tra l'altro Tra poco uscirà anche Reload 2 Quindi sono contento Sono curioso Anche la proveremo Sicuramente insieme Però ragazzi Il fatto che Una modalità Secondaria Una modalità Che non è neanche Nella mappa Originale Della battle royale Del capitolo Riesca a cariare Tra virgolette Delle stagioni È grave È molto grave Ragazzi Io non penso Che sia mai successo Una roba del genere Perché io l'ho giocato Tutte le modalità Tutte le robe Tutte le season Ora così ad occhio Non mi ricordo Una modalità Che non era Nella mappa Ufficiale Della battle royale Che è riuscita A cariare Tutta la stagione Non è mai successo Penso Ora non mi viene in mente Ci sono state modalità Che sono state molto belle Ma dentro la mappa Questa non è neanche Nella mappa È riuscito a cariare Un capitolo Secondo me È un po' tumace Per me la modalità È positiva Ma il fatto che Sia riuscito a cariare Un capitolo Cioè che poi Non è vero Perché la season 3 Rega era bellissima Poi qualcuno piange Tipo i pro player È vero ninja Che piangono Perché non riescono a giocare Diciamo che poi Sì Ha aiutato Questa modalità Però Non è una cosa positiva Il fatto che Questa modalità Abbia cariato Tra virgolette Delle stagioni Di questo capitolo Quindi È un lato negativo Per me Lato negativo Come Gli aggiornamenti Di questo capitolo Perché in questo capitolo Ci sono stati molti Momenti Un po' Spenti ragazzi Spenti Come quando Boh Una stagione 2 Di questo capitolo 5 Che è veramente Spenta E per la storia Di questo gioco Le stagioni 2 Sono le più importanti Hai tutto L'hype intorno Cosa fai? Fai una season Che è già di per sé Spenta Perché ragazzi La mappa era già spenta Di per sé In più Che cosa fai? Fai la collab con avatar Che è ancora più spenta Di quello che era già la season Quindi spento su spento Proprio Cioè Boh Tu proprio Spegni l'interruttore della luce E poi lo spacchi anche In modo che non si può Proprio riaccendere E in più ragazzi Che cosa fai? Non aggiorni il gioco Nel momento in cui tu Devi aggiornare Di solito A fine season Fanno gli ultimi aggiornamenti Dove provano a salvare Un po' la stagione No Aggiungi le bombe E ci spuglio Quindi diciamo che E questo è stato un po' In tutte le stagioni È stato un po' così In season 1 Ci sono stati mesi Fermi In season 3 Non ne parliamo Anche in questa season C'è stato un bel pezzo Dove non c'erano aggiornamenti Quindi Diciamo che ci sono stati Un po' di momenti morti Durante questo capitolo Non quanto lo scorso di capitolo Che ci sono stati molti di più Ma ce ne sono stati comunque altri Di momenti morti Che hanno purtroppo Influito Nel giudizio finale Ma adesso Abbiamo parlato bene o male Di tutto quanto Ora Diamo il voto a tutte le stagioni Classificandole Dalla quarta posizione Alla prima E poi diamo un voto Complessivo Al capitolo 5 Di questo gioco Alla quarta e ultima Posizione Di questa classifica Per queste stagioni Di capitolo 5 Troviamo la stagione 2 La stagione Dei morti La stagione Dei dei Ma facciamo che È una stagione morta E basta Raga Ultimo posto Ne abbiamo già parlato Più e più volte E per quanto mi riguarda Entra nella top 3 Delle season Più brutte Della storia del gioco È proprio spenta E ce n'erano comunque Delle cose positive Ed è questo che mi dispiace Ma era proprio Buia ragazzi Dei momenti bui No Ultimo posto Per questa stagione 2 Passiamo al terzo posto Qualcuno non sarà d'accordo con me Ma metto la stagione 4 Di questo capitolo Ovvero la stagione attuale Al terzo posto Perché È stata Intanto tra il quarto E il terzo posto C'è un divario assurdo Ci tengo a precisarlo Quindi Ma vabbè È stata una bella season Ok Quindi a me è piaciuta Questa stagione Ne ho parlato anche Nel video di finis season Non è stata per niente brutta Anzi è stata molto carina Però Ci sono stati Sarà stato il periodo Che è iniziata Ad agosto Io ero ancora in vacanza Tra l'altro Quando è iniziata L'ho giocata due giorni dopo Però A me il periodo di agosto Inizio settembre Più Fino agosto A me non piace C'è proprio un periodo Che io odio Tra metà E fine agosto Odio quel periodo Lo odio E purtroppo Questa stagione è iniziata Proprio metà agosto E Quindi la prima parte Diciamo che l'ho odiata Ok Poi si è un po' ripresa Ma non perché la seasona è rotta Perché di base A me non piace quel periodo Poi Ho iniziato A giocarci bene Mi è iniziato a piacere Mi sono piaciute tante cose Abbiamo fatto tanti video insieme Mi sono divertito veramente tanto Però Uno scalino indietro All'esiso Che ci sono dopo Ovviamente Adesso Passiamo Alla seconda posizione Seconda posizione Regà Sta classifica È tutta particolare Perché Purtroppo è così Perché tutte le season Non hanno avuto Cioè In sto capito Non c'è stata una stagione Che è interamente Stata bella Quindi Anche questa ragazzi Arrivavo poi Da una season brutta Ma Questa stagione 3 Regà Mi ha fatto Ritornare La voglia di giocare a Fortnite Quindi Io Sta stagione Mi è piaciuta veramente tanto Il primo mese di sta stagione Era qualcosa di assurdo Finalmente Stava arrivando l'estate Tornavo a fare le live con voi Non vedevo lì Tornare a fare tantissime live Insieme a voi Mi sono divertito un botto Nel primo mese Poi purtroppo ragazzi Non lo decido io Purtroppo La Epic Ascolta quelli che Frignano Perché È la voce più grande La fanno loro E I pro player Che si credono forti Quando pro player non sono Visto che si piangono Per ogni cosa che aggiungono Evidentemente Forti non sono Le macchine E queste novità qua Erano bellissime Erano stra divertenti Sono contento di aver fatto Tutte le Challenge in quel periodo lì Ogni tanto mi ricordo ancora Quei video lì Che sono veramente divertenti E mi è piaciuto un botto La prima parte Poi purtroppo Ve lo ripeto Dalla seconda parte In po' di stagione Da luglio in poi Facciamo È stato un flop È sceso sempre di più Scesa 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 Fino ad arrivare ad agosto Che raga Scesa completamente Ma Non posso dimenticare Quello che è stato Inizio season E si merita Per me il secondo posto Per quello che Ha rappresentato Per me E al primo posto Ovviamente La stagione 1 Di questo capitolo 5 Che è partita Alla grande Raga A parte il winterfest Ma era talmente bella Sta stagione Che è riuscita A surclassare Il problema Del winterfest Ok Cioè se voi Io sta stagione L'ho sempre detto Era bella Da dicembre Da inizio dicembre Da quando è iniziata Ok dal primo giorno Che è iniziata Fino a To Fine gennaio Fino a metà Gennaio Facciamo Ok È stata bellissima Il problema qual è Il winterfest Era proprio nel mezzo Di questo periodo Ed era talmente bella Sta stagione Che è riuscita A coprire il winterfest Che è stato orribile Come vi ho detto prima È stata veramente Un impatto assurdo La stagione 1 Ho dei bei ricordi È stata molto molto divertente La prima parte Ovviamente non posso Dimenticare Che da metà gennaio In poi È stato un flop Ragazzi Perché È finita marzo Vi ricordo È metà marzo È finita sta stagione E febbraio Quella metà di marzo È stato Regà Un disastro Senza aggiornamenti Senza Hype Per nulla Ma A parte questo Che Cioè Sorvoliamo Questi problemi Ok Io la voglio mettere Al primo posto Perché Secondo me Merita il primo posto Questa stagione Ovviamente Nei commenti Fatemi la vostra Ragazzi Qual è la vostra Classifica di queste stagioni Scrivetemi Tutto quanto Abbiamo parlato Tanto in questo video Ragazzi È durato più del solito Ma È un capitolo Ci tenevo a farlo E quindi ragazzi Scrivetemi cosa ne pensate Tutto quello che pensate Di tutte quante le cose Di cui abbiamo parlato Di tutto il capitolo Mi raccomando Ultima cosa Prima di salutarci Questo capitolo 5 È un capitolo Bello Oppure brutto La risposta È così È così Non è un capitolo Bellissimo Ma non è neanche Bruttissimo Se devo fare una classifica Sui capitoli Purtroppo Ad oggi Non è in top 3 Perché la mia classifica Di capitoli È ancora Capitolo 1 Sopra tutti Capitolo 2 E Poi C'è il capitolo 3 4 e 5 Che sono Lì Hanno tutti e tre Avuti troppi problemi E chissà Chissà Questo capitolo 5 Secondo voi è meglio Del capitolo 4 e capitolo 3 Fatelo sapere cosa Tra i commenti Io Vi saluto Vi ringrazio Tutti quanti Tutte le persone Che mi hanno supportato In questo capitolo 5 Grazie a tutti quelli Che ci sono dall'inizio Che non hanno mai Abbandonato la nave Grazie a chi Mi ha conosciuto Magari in corso Capitolo Ed è rimasto fino alla fine Grazie mille Non vedo l'ora Di adesso iniziare La season G E poi iniziare Un capitolo 6 Assieme Sperando di finirlo Assieme Vi ringrazio di cuore Iscrivetevi tutti quanti al canale Lasciate un commento Mi piace Veramente col cuore Ringrazio tutte le persone Che mi hanno supportato In questo capitolo 5 Ci becchiamo Nella season G E poi col capitolo 6 Grazie a tutti Bella Grazie capitolo 5 Addio